Pronto, si è corso dell'ospitale Abdrahman Memi. Io parlo quattro lingue, l'arabo, la mia madrelingua, i francesi, l'inglese e un po' l'italiano. Io studio l'italiano perché voglio continuare la mia carriera professionale in Italia. Adesso io vivo solo, ma mia famiglia è composta di tre persone, mio fratello e anche mia madre. Benissimo, bravo. Però quando usiamo due verbi voglio continuare, voglio continuare la mia carriera professionale in Italia. Benissimo, sentiamo se Olfa si ha preparato bene la sua lezione, vediamo. Buongiorno professore. Buongiorno Olfa, come stai? Bene. Allora io adesso Olfa non voglio che tu mi reciti quello che abbiamo studiato, io con te farò una conversazione, io ti faccio le domande e tu mi devi rispondere. Ok? Ok. Benissimo. Allora sentiamo, come ti chiami? Mi chiamo Olfa Sadali. Olfa Sadali, benissimo. Quanti anni hai Olfa? Io ho 29 anni. 29 anni. Sei una donna sposata oppure sei nubile? Io sono una donna sposata. Da quanti anni? Da quattro anni. Benissimo, benissimo. Allora sei felicemente, felicemente sposata. Hai un figlio? Sì, io ho uno figlio. Quanti anni ha? Tre anni. Tre anni. che lavoro fai tu? Io faccio l'infermiera. Benissimo. Devi rispondere alle domande. Allora tu fai l'infermiera. In quale ospedale? Io faccio l'infermiera all'ospedale della Casseria. Sì? In quale reparto? Allo reparto di ginecologico. Benissimo. Tu vivi con tuo marito, tuo figlio oppure vivi con i tuoi genitori, in famiglia? Io vivo con la mia famiglia ed è composta di tre persone. Mio marito, mio figlio ed io. Ah, bravissimo Olfa. Allora hai studiato bene durante il luitano. Sabato e domenica hai studiato bene l'italiano. Brava, brava. Ti faccio anche un applauso. Sei stata brava. Bravissima. Grazie. Allora sentiamo il nostro infermiere Fatnassi. Buongiorno. Buongiorno Aizam. Come stai? Bene, professore. Allora puoi presentarti per i tuoi colleghi? Ok. Buongiorno a mio amico. Mi presento. Amico. Buongiorno amici. Amici. Bene. Buongiorno amici. Mi presento. Sono uno studente. Mi chiamo Aizam Fatnassi. Mi chiamo Aizam Fatnassi. Sono tunisino. Sono nato 23 febbraio 1987. Sono uno giovane ragazzo fidanzato con Arwa. Io vivo con la mia famiglia. I genitori, il padre, la madre, uno fratello e due sorelle. Sono infermieri. Lavoro in laboratorio nel reparto di rianimazione Covid a Policlinico M'Jazzar-Kirouan. Io parlo quattro lingue. L'arabo, la madrelingua, il francese, un po' l'inglese e l'italiano. Io studio l'italiano perché continuare la mia carriera professionale in Italia. Bravissimo Aizam. Anche Aizam. Non hai copiato. Non hai guardato. No, no, no. Gemla. Bravo, bravo Aizam. Gemla, good goal. Carissimo. Vediamo adesso Suleyma. Dove è andata Suleyma? Prima la vedevo. No, ma l'abbè sarà l'Akhver, Suleyma. No, no, no. Buongiorno Suleyma. Eccola Suleyma. Buongiorno Suleyma. Buongiorno professore. Come vai? Bene, bene. Tu? Bene. Aizam, grimo. No, adesso parliamo solo italiano Suleyma. Ok. Brava. Allora hai lavorato durante il weekend Suleyma? Sì, sì. Sabato, domenica. Sabato e domenica. Ah, poverina, poverina. Sei stanca allora? Sì. Bene. Puoi presentare, ti puoi presentare ai tuoi amici? Sì. Allora, buongiorno amici. Buongiorno Suleyma Suleyma, sono una studentessa dell'Italiano. Mi faccio l'infermiera in ospedale pediatrico di Fonisi. Io ho 34 anni e abito in territoria di Fonisi. Io vivo con la mia famiglia e un un po' numero, numero, numero. È composta dalla mia madre e mio fratello. Io studi l'italiano perché voglio continuare la mia carriera professionale in Italia. Io parlo quattro lingue. L'arabo è la mia madrelingua, l'inglese, il francese e un po' l'italiano. Benissimo. Allora, sentiamo Ueli. Brava, brava Suleyma. Ueli. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno amici. Mi presento, sono uno studente, mi chiamo Zeno Ueli. Un bello ragazzo, Giovanni, in casa con Ines, due anni. Io ho 34 anni, sono nato a Lucci, novembre, 1986. Sono nato a Admonaster. Un attimo, Ueli. Quello che mi piace, Ueli, è che è troppo fiducioso lui. C'ha fiducia in se stesso. Sempre mi risponde, io sono un bel ragazzo. Mi piace questa cosa. Allora, sei sposato con due figli, poi? Sono nato a Admonaster, abito in Veriteria. Il mio interesse è in palestino. Io vivo con la mia famiglia. La mia famiglia è composta di sei persone. Mio padre, mia madre, mia sorella, due fratelli ed io. Buongiorno professore. Buongiorno Khabib. Buongiorno, miei colleghi. Mi chiamo Marwen Khalil. Sono Tunisino di Ariena. Abito a Calatland Loss. Ommo sposato. Dove l'amore? Io faccio l'infermiero all'ospedale universitario Abderrahman Memi, al riparto chirurgia. Io studio l'italiano perché voglio continuare la mia carriera professionale in Italia. In Italia. Hai un'idea su quale città vorresti andare? Vorresti andare? A Torino. A Torino. Benissimo. Bella Torino. Bella. È la città della mia squadra preferita, la Juve. Quindi è una bella città. Benissimo. Del calcio. Beh, il calcio. La città del calcio. Ied. Ied Vari, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, professore. Come stai, Ied? Bene, e tu? Beh, puoi attivare la tua telecamera oppure no? Sì, sì. Benissimo. Eccolo qua. Buongiorno. Ied, come vedete, è un giovanissimo infermiero. Sì. Allora, presentati ai tuoi amici. Buongiorno, miei amici. Buongiorno, professori. Io sono Ied, io ho 26 anni, io abito a Bizerta. Io sono un infermiero, io lavoro all'ospedale universitario di Bizerta, nel reparto di reanimazioni. Benissimo. Bravo.